Giovedì 22 agosto in piazza Duca Federico Alle 21, il primo appuntamento con Summer Nights Band, ben quattro le band di giovani urbinati che si esibiranno. Si tratta dei Clamors, dei Lonely Hearts, Francesco Scaramuzzino e Negna e l'Alba. Abbiamo voluto come amministrazione comunale creare un'iniziativa che fosse in una settimana in cui le grandi manifestazioni o erano finite o stavano per iniziare. Quindi abbiamo voluto dare un'opportunità a tutti gli urbinati in una serata dedicata alla musica di poter avere una bella iniziativa. Questa è una prima serata, una prima volta. Ovviamente le band di Urbino sono tante, se questa serata piacerà e ci sarà un buon riscontro di pubblico come speriamo potremo crearne anche altre in futuro. Quindi l'invito è davvero rivolto a tutti i cittadini, famiglie, bambini, persone adulte che vogliono ascoltare buona musica. L'inizio di una collaborazione tra Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Giovanili per animare le serate di Urbino con attività per tutta la famiglia appunto. È proprio così e ho apprezzato molto l'iniziativa della collega Ottaviani che segue gli eventi di dare subito spazio ai giovani perché si partirà con queste band anche di giovanissimi e credo che un'amministrazione pubblica debba oltre che trovare spazi in cui i giovani possano fare musica come alla Casa della Musica però debba anche trovare occasioni e momenti per far esibire questi ragazzi e per fare in modo che tutti possano apprezzare talenti che stanno fiorendo e sbocciando.